Ciao a tutti e bentornati su Starlight's Tube, nuova reaction, come dissi già nella reaction al trailer di Hocus Pocus 2 c'è stato appunto il grande evento che fanno sempre della Disney in cui hanno presentato un po' tutti i prodotti che caratterizzeranno la fine del 2022 e il 2023 e tra questi appunto è stato presentato anche il primo teaser dedicato al live action della Sirenetta voi lo sapete come la penso sulla Sirenetta, avete visto il mio video Disney, sapete perfettamente, a parte quello era un video comico, però sapete perfettamente come la penso ma ho letto qualche notizia e sembra che in questo live action vogliono dare un messaggio un po' più profondo e lo ribadisco, spero soprattutto che diano anche il messaggio non innamorarti del primo stronzo che passa solo perché è un principe ed è bello spero che su questa cosa lavoreranno, lo spero fermamente, anzi forse che la mettano anche da parte e che si consentino sul desiderio di Ariel di vivere sulla terra, di essere un essere umano con un'anima spero che ci consentino su quello piuttosto della friggitura che questa prova per sto principe solo perché è bello ed è ricco quindi spero appunto che sinceramente non vadano diciamo a fare un copia e incolla dell'originale perché sennò mi incazzo ci sono state tante polemiche sul fatto che l'attrice sarà di Corona, a me di Corona non importa un cazzo perché l'ho già detto, non rompi i cojoni per il cambio dell'etnia, non mi interessa infatti hanno detto che comunque si sono commossi tutti nel sentirla cantare la canzone Vorrei vivere là il titolo originale ragazzi non me lo ricordo, vi dirò la verità è un teaser piccolo, da quello che ho visto non c'è, da quello che mi hanno detto, anzi dura un minuto 24 quindi veramente non è niente, però mi sono detto vabbè, diamo un po' un primo sguardo a questo live action di cui sinceramente ho parecchi dubbi, anche dopo che ho visto la locandina veramente ho dei dubbi però mai giudicare un prodotto prima di averlo visto quindi io adesso uscirà da quello che mi hanno detto il 24 di maggio del 2023 ma comunque vabbè se c'è la data alla fine del teaser, di solito la mettono e niente, quindi ragazzi, guardiamo questo teaser e vediamo un po' che cosa ci aspetta però, bella scena di impatto oh madonna le musiche le tartarughine devo ammettere che la musica mi sta dando un bel po' di feels però dai, niente male, no no, eccola qua beh, devo dire che graficamente ci siamo, eh, niente da dire eccola eccola qui madonna le musiche però ragazzi madonna beh, dai niente male, cavolo questa è la sua cavernina oh non mi hanno fatto vedere Flander però la sirenetta eccola qui niente da dire devo dire che ci sta ok, chi canta in italiano sa il fatto su mi hanno detto che anche lei è molto brava 24 maggio 2023 speriamo bene allora, è un teaser cioè, si vede l'unica cosa lei dentro la sua cavernina quella famosa in cui teneva tutte le chincagierie che trovava legate al mondo umano e devo ammettere che non so chi canterà in italiano ma sa il fatto suo adesso poi dovremmo vedere se effettivamente daranno il doppiaggio a doppiatori esperti o ad attori spero ovviamente non agli attori basta far doppiare le cose agli attori famosi solo perché c'è il nome fate doppiare i personaggi e i doppiatori esperti e poi trovate delle cantanti o cantanti che cantino le parti delle canzoni perché per esempio la Francesca Chillemi che doppiava Cip e Ciop non si poteva sentire basta con queste cose basta, basta, basta spero di non trovarmi Elisa anche a doppiare no, Elisa poi devo dire che aveva fatto un po' ciofeca in Dumbo però a doppiare Nala non era stata neanche tanto mai loro due sono state l'escezione che fa la regola quindi appunto diciamo che c'è poco da dire c'è veramente pochissimo però devo dire che scenograficamente sembra buono lei è convincente devo ammettere che non mi è dispiaciuta e poi vabbè le musiche le musiche hanno detto che terranno quelle originali ma ci saranno anche delle tracce nuove quindi ci saranno anche delle canzoni nuove quindi appunto di conseguenza staremo a vedere insomma io cosa posso dire c'è poco però avevo problemi io all'inizio non volevo farla questa reaction però avevo detto che la volevo fare che l'avrei fatta e quindi volevo mantenere la promessa è uno scroscio adesso poi quando uscirà il trailer quello su cui c'è tanta roba su cui masticare sicuramente farò una reaction anche di quello abbiamo tempo avete visto appunto che è uscita anche la data alla fine del teaser 24 maggio avevo ragione mi era stato detto appunto una ragazza che mi segue su Instagram tanto c'è tema abbiamo tempo fino al 24 maggio del 2023 per cagarci in mano quindi che dirvi ragazzi c'è poco da dire però devo dire che è stato un teaser di impatto sicuramente lei devo ammettere che è molto carina deve avere una voce anche che spacca voglio sentirmela in originale quando potrò se lo sapevo infatti lo facevo in lingua originale ma vabbè lo sapete che io opto sempre per l'italiano perché non so quanti sanno l'inglese a me che tutti avrebbero le mani lo mastichiamo se sapevo che era così corto l'avrei fatto in lingua originale però va bene anche la nostra musica italiana anche le nostre cantanti sono brave tanto ce ne sono tantissime bravissime e quindi niente ragazzi il 24 maggio penso che sarà su Disney Plus non penso che uscirà non so se guardate che controllo perché non ho visto se c'è scritto se uscirà no prossimamente al cinema quindi no il 24 di maggio chiudete maledetto infame non si chiude scusatemi ha problemi tecnici sempre in real life lo sapete i miei video al cinema quindi lo andrò a vedere penso che sicuramente lo andrò a vedere lo andrò a vedere perché sono curioso comunque la sineletta del bruno e il male ha segnato la mia infanzia crescendo avete visto come mi ha ridotto vedremo appunto questo live action se si farà amare o se mi farà incazzare anche lui o magari tutte e due potrei arrivare anche a provare un misto un perfetto connubio di amore e odio vedremo vedremo e il cast poi ho visto che ci sono Melissa McCarthy Javier Bardem che farà tritone Melissa McCarthy dovrebbe fare Ursula devo dire che ci sta devo dire che ci sta e niente ragazzi aspettiamo e per ora diciamo che più che altro ho curiosità perché veramente c'era poco da dire su questo teaser e ho sempre paura come sempre quando escono questi fottutissimi live action anche di un cartone che da adulta mi fa seriamente incazzare bene anche questa mini reaction diciamo si conclude qui io spero che vi sia piaciuta come sempre vi ricordo ragazzi che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione dove troverete anche il link per seguirmi su TikTok quindi vi aspetto anche lì se volete sostenermi con una donazione mi raccomando c'è un link in descrizione e il tasto super grazie che il commento personalizzato in cui potete farmi una piccola donazione simbolica sempre se volete troverete anche la wishlist di Amazon se volete farmi un piccolo pensiero più materiale ma soprattutto ragazzi vi ricordo di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video come sempre vi ricordo che se amate The Walking Dead in descrizione trovate il link delle pagine Facebook Kelly d'Italia e The Walking Dead Ita Family Kelly d'Italia ha messo in una presenza fissa nelle live a metà settembre adesso ne faremo una per spezzare la monotonina in attesa del 3 ottobre potete trovare davvero di tutti immagini curiosità news di chi più ne ha più ne mette insomma davvero tante cose inerenti a tutta la serie non soltanto ai Keril The Walking Dead Ita Family è una pagina con cui collaboriamo che tratta tutto l'universo della serie spin off compresi e anche lì potete trovare davvero di tutto dalle immagini divertenti alle aree di discussione alle immagini aggiornamenti le news e le curiosità insomma ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questa reaction vi è piaciuta mettete un bel pollice e fatemi sapere nei commenti ragazzi cosa ne pensate lo so c'è poco c'è poco su cui ragionare però comunque fatemi sentire perché i commenti aiutano l'algoritmo di Youtube a far salire il video e quindi andiamo ad aiutarmi anche con le visualizzazioni quindi mi raccomando dai fatemi sapere se avete dei dubbi se lo aspettate se siete curiosi se amate così tanto la sirenetta da vedere anche questo live action con il cuore colmo di gioia se come me invece avete paura se come me quella vi fa incazzare quindi ragazzi dai sbizzarretevi nei commenti vi aspetto vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti